Le lettere dell'alfabeto hanno tutte un segreto, se le metti più vicine forman tante paroline. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, Z, la lista delle lettere ora è completa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, Z, la lista delle lettere ora è completa.